Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dedicato ad una delle personalizzazioni più avanzate mai introdotte su iOS. Sto parlando del nuovo centro di controllo e appunto della possibilità di personalizzarlo a seconda delle nostre esigenze. Quindi non perdiamo tempo e vediamo subito come fare e come è possibile personalizzare il centro di controllo di iOS 11. Allora ragazzi iniziamo col dire che il centro di controllo di iOS 11 può essere personalizzato ma non dalla schermata del centro di controllo. Bisognerà andare nell'app impostazioni. Altra cosa da specificare è che il centro di controllo può essere personalizzato solo da qui in giù. Quindi tutti questi pulsanti dovranno restare perché sono i pulsanti indispensabili come il blocco rotazione, come il non disturbare, come la gestione della luminosità, del volume, il player multimediale, lo screen mirroring e qui la sezione che si attiva con un 3D touch di tutte le connessioni. Per quanto riguarda la parte personalizzabile quindi parliamo di questi pulsanti. Allora tiriamo giù il centro di controllo, andiamo nell'app impostazioni in centro di controllo e qui vedete possiamo un attimo andare a gestire tutti i nostri toggle. Possiamo intanto fare semplicemente questo quindi riposizionare i toggle. Vedete ho messo in prima posizione il risparmio energetico, se faccio così l'ordine ovviamente cambia, il risparmio energetico è andato lì. Ma possiamo anche aggiungere nuovi pulsanti, ad esempio questi e allora li aggiungo un po' tutti e come vedrete ora il centro di controllo si è popolato con questi nuovi pulsanti. Ad esempio qui abbiamo il pulsante per gestire la dimensione del testo, qui abbiamo l'ingrandimento, la lente di ingrandimento che è una funzione che sfrutta la fotocamera e in questo modo appunto abbiamo aggiunto delle nuove opzioni. Ovviamente possiamo anche andarle a rimuovere o come abbiamo visto prima possiamo modificarne l'ordine. Per il momento non è possibile però inserire toggle di applicazioni terze, non è escluso che questa possibilità possa arrivare in futuro. Sarebbe comodissimo ad esempio avere qui un'icona per scrivere un nuovo post su Facebook o per iniziare una diretta su YouTube potrebbe essere appunto veramente molto comodo ma per il momento ci dobbiamo accontentare. Tra le varie opzioni che abbiamo a disposizione oltre quelle di accessibilità e legate all'orologio, al flash, al risparmio energetico abbiamo delle novità come il widget per wallet, il widget per il non disturbare alla guida, il widget per creare una nuova nota, il widget per utilizzare il nostro dispositivo iOS come telecomando della Apple TV. Eccolo qui, in pratica non serve più l'applicazione Apple TV ma basta utilizzare questo widget e poi abbiamo anche forse l'opzione più interessante lo screen recording. Ve ne ho parlato in un video dedicato quindi se non l'avete ancora guardato andatevelo a guardare. Bene ragazzi quindi abbiamo visto come personalizzare il centro di controllo di iOS 11, una delle novità più interessanti di questo aggiornamento. Fatemi sapere se vi piace questa nuova possibilità, se vi piace cosa si può fare ora con iOS 11 nel centro di controllo. Se vi è piaciuto il video ricordatevi di lasciare un bel like che ci aiuta a crescere, iscrivetevi al canale, condividete il video. Noi ci risentiamo, alla prossima. Ciao a tutti da Andrea Cervone per iPhoneItalia.com